Hegel, la penna stilografica, gli occhiali, dentro il signor Balloni con il figlio che sembrava una scheggia di suo padre, serissimo, profondo, la natura tornata ad essere spirito inchiostro. Tre portoni più in là da Marinelli si alienava in natura la signora con le guance incavate e spesse lenti. In vibrante farina si alienava in particelle e in ultimi elementi. All'inizio del corso, da Pierino, intera e senza centro la famiglia, tra marmo e sangue, manovrava libera stessa mannaia su natura e spirito.